Non facciamo disparità con nessuno, la raccolta della carta è possibile farla in tutta la città. Sicuramente c'è una differenza dei sistemi di raccolta, c'è da porta a porta e stradale, ma con lo stradale copriamo tutta la città. La carta al tesoro è proprio un messaggio a tutta la città, non solo a chi fa il porta a porta, perché la carta è un materiale nobile, un materiale che serve per diminuire la deforestazione, un materiale che si può riciclare tantissime volte. E quindi sicuramente noi stiamo incrementando il sistema porta a porta e arriveremo a 600.000 abitanti, ma sappiamo pure che il destino della raccolta probabilmente non è tutto sul porta a porta. Dicevamo appunto la sperimentazione di quest'anno sul sistema puntuale, il sistema puntuale al 90% delle applicazioni è sul sistema stradale e quindi i cittadini si devono abituare a fare la raccolta differenziata e dico soprattutto con sistemi tipo quello stradale che poi sono quelli più economici e che a tendere possono permettere anche una riduzione importante del tariff, ben più di quello che può concedere invece un porta a porta anche con il recupero di materia, così come stiamo facendo noi.